Decisivo e implacabile, l'attaccante del Pisa Ernesto Torregrossa è il secondo a vincere il trofeo della Serie B come miglior giocatore del mese di marzo, succedendo a Massimo Coda. In occasione della partita Pisa-Como, valida per la 35esima giornata di campionato, il giocatore ha ricevuto il premio davanti ai suoi tifosi durante il cerimoniale pre-gara. Nato a Caltanissetta nel 1992, Torregrossa è una prima punta mancina, forte fisicamente e abile nel colpo di testa. È dotato anche di buona tecnica e rapidità, caratteristiche che gli consentono di svariare su tutto il fronte offensivo. La giuria, composta dai giornalisti Daniele Barone di Sky, Riccardo Mancini di Dazon e Raffaele Pappadà di Elbiz, coadiuvata da cronache di Spogliatoio, si è riunita per la votazione. Non ci sono stati dubbi su chi doveva aggiudicarsi il premio. Un contributo fondamentale alla causa nerazzurra che sembrava avere perso lo smalto della prima parte di stagione rispetto al mese di febbraio, in cui i toscani avevano ottenuto complessivamente solo sette punti in sei gare. A marzo, grazie a Torregrossa, la squadra di Mister D'Angelo si è rilanciata nella corsa alla promozione diretta nella massima categoria. Il Pisa, infatti, ha vinto quattro delle ultime cinque partite in ognuna via la firma di Torregrossa, sia che si tratti di vittorie schiaccianti, come la doppietta nel 3-0 casalingo ai danni della Cremonese, sia gli 1-0 decisivi a Pordenone e in casa contro il Cittadella.